Vacanze forzate per gli alunni delle scuole elementari e medie di Orso Marso. Paola Maria Candia, sindaco del piccolo comune Montano, ha deciso che l'istituto salvo d'acquisto resterà chiuso fino al prossimo giovedì 26 aprile. Decisione che arriva con una proroga della precedente ordinanza, emessa in seguito alla caduta di alcuni massi dal costone roccioso della torre dell'orologio. L'ondata di maltempo sta provocando non pochi disagi nel comune altotirrenico che la scorsa settimana ha subito danni anche a causa dell'esondazione del fiume argentino. Le piogge abbondanti del 13 e 14 aprile non solo hanno provocato la piena del corso d'acqua che costeggia il paese, ma hanno anche reso fragile il costone roccioso dal quale giovedì scorso si sono distaccati grossi massi. Ad oggi però il pericolo non è stato completamente rimosso. Le squadre di soccorso della protezione civile, con l'aiuto di una ditta privata, avevano immediatamente provveduto a rimuovere i massi, ma uno è rimasto incastrato tra la rete di protezione e il tronco di un albero. Rete che è stata già sistemata, ma ciò non basta a mettere in sicurezza l'incolumità pubblica. Le avverse condizioni meteorologiche, ha spiegato il sindaco Paola Maria Candia, hanno impedito di completare i lavori. È necessario realizzare una barriera di legno a protezione dalle eventuali cadute di altro materiale dal costone roccioso nella strada sottostante che conduce al plesso scolastico. Oltre alle scuole, infatti, per tutelare la sicurezza pubblica, rimarrà chiuso al traffico veicolare e pedonale anche via Porta la Terra, nel tratto in cui la strada incrocia via Palazzo Farace. I lavori, conclude il primo cittadino, dovrebbero terminare entro la prossima settimana. Nel periodo estivo, quando le scuole saranno chiuse, riprenderemo gli interventi di messa in sicurezza. L'eliminazione del masso incastrato nella rete, infatti, prevede lavori più lunghi e complessi, tra cui la frantumazione. Cosa necessaria ora è evitare che il masso precipiti. Le lezioni, forse, riprenderanno giovedì.